anche oggi è nessimo pacco che mi ha inviato l'eroa merlena andiamo a scoprire insieme vi ho già detto il passato io sono passato all'elettrico perché non voglio avere a che fare con benzina oli manutenzioni eccetera eccetera questi gli attacchi alla corrente e vanno una meraviglia però però c'è un però avevo bisogno di qualcosa batteria e questo mi garantisce una certa agilità di movimento perché il mio giardino è davvero grande in alcuni punti con la prolunga non ci riesco ad arrivare abbiamo una stairwinds tre anni di garanzia batteria inclusa testa riclinabile taglia anche i car di 28 cm di taglio quindi italia anche i car di che sono erbacce spesse 20 watt di potenza la prima cosa che faremo è mettere in carica la batteria vedete ci segnala che la batteria è stata messa adesso vediamo quando lampeggia vuol dire che sta caricando luce verde la batteria è in carica abbiamo un comodissimo manico telescopico che ci permette di riporlo facilmente in caso dobbiamo riporlo in uno spazio limitato vedete tutto è molto funzionale come potete vedere anche la testa e orientabile c'è tre posizioni differenti ma se andiamo a fare una prova di taglio devo dire che il prodotto è anche molto molto leggero quindi è molto pratico e comodo da utilizzare proviamo a fare una bella prova d'italio con queste piatte che sono cresciute abbastanza selvatiche devo dire che questo prodotto è straordinario l'abbiamo testato su un ampio raggio la batteria è perdurata per circa 30 40 minuti di lavoro il prodotto è leggerissimo e non servirà neanche mettere magari un po già spalla nulla perché è davvero leggero questo prodotto lo trovate elencato qui sotto sul sito di loro a merlena ad un prezzo interessantissimo quindi cliccate in basso e trovate tutte le specifiche e trovate lo stesso prodotto identico ad un prezzo davvero molto interessante ringrazio l'erua merlena per avermi dato l'opportunità di provare questo fantastico taglia bordi e vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale youtube di rimedi di vini accendere la campanellina seguitemi perché ci sarà un 2024 ricco di nuovissimi video di tantissimi consigli e stiamo preparando tantissime cose per voi follower ormai siamo arrivati già quasi a 50 mila iscritti manca pochissimo e vi ringrazio di questo ottimo risultato ci vediamo alla prossima io quasi quasi ricarico la batteria e mi vado a fare un'altra passata perché è diventato piacevole e tu che filmi anzi che dici lo fai anche tu perché è leggerissimo quasi quasi sto cambiando idea fatta fare una passeggiata con questo ciao ciao